Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'operazione terra bruciata che ha colpito il clan Laudani operativo a Randazzo. Più di 30 gli indagati, 21 invece le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Dall'attività investigativa sono emerse anche ipotesi di scambio elettorale politico mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018. Un'altra operazione antimafia ha visto invece finire in manette 19 persone, 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari nelle province di Bari, Palermo e Taranto. I capi di imputazione sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico mafioso. Ancora un'aggressione nei confronti di personale medico e sanitario a Catania è accaduto tutto ieri nel tardo pomeriggio all'interno del pronto soccorso pediatrico del presidio San Marco di Librino quando un genitore che aveva portato nel nostro comio la propria figlia per alcune cure di lieve entità è invece andato in escandescenza a farne le spese. È stato un pediatra colpito in modo violento al volto ed un'infermiera che è stata spintonata nel tentativo di dissuadere l'aggressore. Sentito il trambusto proveniente dalle sale interne, prontamente sono intervenute le guardie giurate che hanno bloccato l'autore del fatto, poi preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto grazie all'immediata segnalazione dei presenti. A ricostruire il fatto è stato il segretario provinciale della UGL Salute Catanese, Carmelo Urzi. Dramma invece al cimitero Sant'Orsola di Palermo dove una donna è caduta dentro una tomba sprofondando per tre metri per il cedimento della lastra d'irmarmo sulla quale era salita. Dell'incidente si sono accorte alcune persone in visita al cimitero che hanno chiamato i vigili del fuoco. La donna è rimasta sempre cosciente, è stata imbracarta e messa in salvo. Soccorsa dai sanitari del 118 si sarebbe provocata soltanto alcune fratture. E' tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. A più tardi! Adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.